Domenica 8 ottobre ore 17 nel ribattezzato Palamegabox zona campanara di Pesaro. Queste le coordinate dello start per il debutto del terzo campionato di Serie A1 della Megabox ondulati del Savio Vallefoglia che esordirà in casa contro la Roma Volley Club. Casa che per il club di Vallefoglia quest'anno fa rima con Pesaro, nuova sede delle partite casalinghe delle Tigri Biancoverdi dopo due anni trascorsi ad Urbino. Torna dunque la grande pallavula Pesaro proprio nell'anno di Capitale della Cultura. Giovedì sera, a dare il benvenuto in città alla società del Presidente Angeli, è stata una location molto particolare come quella della Caserma del Monte. Ospiti del 28esimo reggimento Pavia che rafforza il suo legame con lo sport del territorio, la squadra si è presentata spaziando da solide conferme come la capitana Tatiana Koshleva a un rinnovamento che parte dalla guida tecnica affidato a coach pistola motivato a continuare la parabola ascendente del volley targato Megabox. Emozioni sono tante perché comunque sono dieci anni che non sono più qui a Pesaro quindi è un ritorno gradito. Poi da marchigiano insomma ho tutte le intenzioni di far bene in casa mia quindi abbiamo un gruppo che penso che potrà sviluppare una buona pallavulo e fare un bel campionato. Dobbiamo avere solo pazienza all'inizio a inserire tutti quanti i vari tasselli, anche quelli arrivati da poco. Sicuramente abbiamo voglia di fare una bella stagione, penso che la squadra sia stata allestita nel modo corretto, abbiamo tanta voglia di iniziare questo campionato. c'è stato un lungo pre-season in cui abbiamo costruito i nostri meccanismi adesso sono arrivate le ultime ragazze della nazionale quindi non vediamo l'ora di farvelo vedere. Penso che dal punto di vista tecnico-tattico sia una squadra che ha un buon potenziale d'attacco perché comunque abbiamo degli attaccanti importanti per la categoria e penso che su questo dovremo fare un po' leva per poter avere un buon rendimento. Dal punto di vista caratteriale penso che è una squadra che è un mix di ragazze giovani con voglia di esprimersi ad alto livello e ragazze un po' più esperte quindi penso che ci siano tutti ingredienti perché ci sia un giusto feeling per poter esprimere la pallavolo di ottimo livello.